Un dono, un pacco viveri per le famiglie bisognose. I cesti si trovano esattamente qui in tribunale sotto l'albero ed è l'iniziativa organizzata dai dipendenti, magistrati, dall'ordine degli avvocati di Pesaro che quest'anno hanno deciso di aiutare le persone in difficoltà. Centinaia di generi alimentari per chi è in condizioni di bisogno. Sotto l'albero del tribunale di Pesaro sono già diventati tantissimi cesti per la raccolta, un'iniziativa solidale messa in campo da magistrati, dipendenti e dall'ordine degli avvocati di Pesaro che hanno organizzato una colletta alimentare per poter donare cibo alle famiglie bisognose. Pasta, dolci, natalizi, alimenti di ogni genere, la raccolta coordinata dalla guardia giurata Emilio Sarubba terminerà il 18 dicembre, poi il materiale verrà distribuito e potrà regalare un sorriso ai meno fortunati. Si tratta di una raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose, penso che sia il terzo o quarto anno che facciamo questa iniziativa, siamo molto contenti di come sta andando, ricordo che l'iniziativa è ancora in essere, potranno essere raccolti generi alimentari preferibilmente non deperibili fino al 18 dicembre, quindi invitiamo tutti coloro che accedono in tribunale, in particolare i colleghi, a continuare in questa raccolta per la quale dobbiamo ringraziare il Tribunale, il Presidente del Tribunale, il Procuratore, tutti gli Avvocati che hanno contribuito, il Consiglio dell'Ordine e anche, devo dire, la guardia giurata Emilio Sarubba che si fa sempre promotore e ci sollecita in questa iniziativa per continuarla. Siamo in un momento particolare dove purtroppo le difficoltà dovute al momento si accentuano e quindi il significato di questa iniziativa io ritengo che sia ancora più pregnante in questo momento particolare perché la povertà, anche se non si vede a volte, ma si vede, c'è ed è un problema che non possiamo sottovalutare.